Penso a Napoleone, che prima della battaglia di Austerlitz salutava fiero, incoraggiandoli con lo sguardo, gli uomini assegnati al fianco destro del suo esercito, da lui deliberatamente indebolito per attirare in trappola gli austro-russi. Grazie a quei fedeli sudditi che marciavano inconsapevoli verso la morte, lui avrebbe ottenuto la sua più grande vittoria. Venendo ai nostri giorni, ci hanno raccontato che gli interventi militari degli Stati Uniti hanno fallito clamorosamente lo scopo dichiarato di pacificare il Medio Oriente. Mentre hanno raggiunto l'obiettivo non dichiarabile di destabilizzare i paesi musulmani dell'area per rassicurare l'alleato israele e rafforzare la sua posizione di potenza regionale. Ci hanno anche detto che le misure di austerità alla Monti non sono riuscite, come sperato, a rendere meno preoccupante il rapporto debito-PIL dell'Italia e quindi ad espanderne l'economia. Invece, hanno raggiunto lo scopo non dichiarabile di migliorare drasticamente la sua bilancia di pagamenti con l'estero, rendendola in breve tempo esportatrice netta come la Germania, ma solo perché era stata distrutta la domanda interna di prodotti nazionali ed importazione. In conclusione, chi ha il potere spesso non è stupido come sembra, ma non può far sapere quanto poco tiene alle vite che Repuca reputa sacrificabili per realizzare i suoi veri progetti.